I francesi vogliono comprare l'Italia, gli spagnoli hanno comprato la Telecom, gli asiatici vogliono comprarsi l'Inter, ci sono moltissimi marchi del Made in Italy, come Valentino per esempio che sono di proprietà straniera, francese per l'appunto, visto che c'è tutta questa grande tendenza all'acquisto dei beni italiani, io se fosse possibile vorrei proporre agli amici di Transalpini un pregevole manufatto, l'Ipogeo, un prodotto nuovissimo, terrazzatissimo, ampio giardino, grandi sale sotterranee, utilità? Non lo so, fatene quel che volete, portatevelo in Francia, in fondo si chiama Rotonda alla Francese, no? Via l'Italia, in vendita!